Pronti tutti? Presidente, sarà la giornata decisiva questa per un accordo? Questa notte abbiamo lavorato fino all'alba, direi che c'è stata una svolta, dobbiamo essere ancora cauti e fino alla fine, fino a quando c'è la stretta finale, non valutiamo tutti gli aggiornamenti dei vari posti contabili, dobbiamo essere cauti. Però direi che sono cautamente ottimista. Sulla governance si è raggiunto un equilibrio? Beh, su quello c'è stato, ormai lo sapete anche voi, uno scontro in questi giorni, ho detto che assolutamente non permetterò mai che un singolo paese possa avere il monopolio o comunque la possibilità di un sistema di controllo e di verifica, questo spetta agli organi comunitari e su questo io non mollo, non permetterò mai che avvenga questo. Alla fine l'Italia conserverà i 170 miliardi più o meno dell'inizio? Pare che su questo si stia mettendo bene, vuole capire se... Beh, ieri per l'ennesima volta c'è stato un duro confronto, ho spiegato che dobbiamo avere un limite, c'è un limite, questo limite non deve essere superato, non deve essere superato per la dignità dell'Italia, per la dignità degli altri paesi che in questo momento stanno attraversando la fase più acuta della crisi e stanno avvenendo le più gravi conseguenze. Se questo intervento, questo piano che abbiamo elaborato, non l'abbiamo elaborato noi, l'hanno elaborato innanzitutto la Commissione Europea, quindi gli organi comunitari, se questo piano viene riempito di ostacoli operativi, viene riempito di meccanismi in qualche modo che ne condizionano e compromettono l'efficacia, questo piano non serve a nulla, quindi ho ricamato tutti a un'assunzione di responsabilità, qui non stiamo scherzando, stiamo offrendo e non possiamo neppure guardare il nostro ombelico nazionale, stiamo offrendo una risposta europea e da questo punto di vista non c'è da scherzare più. I mercati finanziari si aspettano un accordo oggi, cioè prima dell'apertura dei mercati e domani, arriverà questo accordo o dovremo... E' per questo che le dicevo, non solo per i mercati finanziari, lo dobbiamo per i nostri cittadini, lo dobbiamo per la gravità delle conseguenze di questa crisi, non è più il tempo di tergiversare, adesso sono stati vari giorni, capisco che in un negoziato così complesso, in un quadro così complesso, finanziario, con strumenti innovativi, ci sono state anche delle resistenze, delle incomprensioni, chiamiamole così, adesso però non possiamo più tergiversare, dobbiamo finalizzare il tutto. Sullo Stato di diritto come siamo messi? Sullo Stato di diritto sono dei temi ovviamente su cui anche ci sono alcune clausole, le stiamo rivedendo dal punto di vista legale, ma sul principio del rispetto dello Stato di diritto mi sembra che non ci sia da discutere. Macron parlava della condizionalità climatica al 30% come un altro dei problemi, l'Italia che posizione ha su questo? Noi su questo siamo favorevoli anche perché questo piano, non dobbiamo dimenticarlo, sussidi, prestiti che siano, sono tutti comunque orientati a realizzare più velocemente la transizione energetica, quella digitale, la svolta digitale, perché ovviamente si è chiamato prossime generazioni dell'Unione Europea, proprio perché dobbiamo favorire questa svolta verde, questa svolta digitale a favore delle nuove generazioni. Il Parlamento Europeo è un po' critico dietro di minaccio di non votarlo, insomma manca una visione comunitaria? Diciamo che le polemiche di questi giorni, qualche braccio di ferro che c'è stato, ha rischiato veramente di appannare delle volte, come quando si discute sui bilanci, eccetera, e si discute dei partiti contabili, quelli che sono gli obiettivi comuni. E l'ho detto anche ieri, noi non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi. Questo piano serve a rilanciare l'Europa, a rendere più competitiva, più resiliente. Se ci fermiamo lì e sono qualche miliardo in più o in meno da una posta all'altra, questo ci deve rallentare, addirittura compromettere la risposta ed avere una surda. I nostri cittadini, i cittadini di ogni Stato membro, ma anche i cittadini europei, non ci lo permetteranno. Non è solo una questione di mercati finanziari. La scelta di imporre ai fugari di scegliere appunto tra una riduzione dei rebate o una riduzione delle sorvenzioni, secondo lei è cruciale per il compromesso che la cittadina di oggi? Sì, mi sembra che il clima sia cambiato anche perché diciamo che ieri sera, dopo questa posizione molto più dura da parte d'Italia, Spagna, Portogallo, e ovviamente anche Francia e Germania, ma mettiamoci anche la Grecia, c'è stato tutto un fronte, diciamo che tutti i restanti paesi, poi noi ci siamo esposti maggiormente, c'è stata una svolta perché a quel punto lì abbiamo fatto comprendere chiaramente che non si può pensare di portare avanti un negoziato che porti il tutto al ribasso. Ogni giorno c'è un continuo tentativo di ribassare le poste in gioco e di compromettere il raggiungimento degli obiettivi. Su questo siamo inflessibili. Diciamo che a quel punto lì 400, se parliamo di sorvenzioni, la soglia dei 400 o 390 ma con penalizzazioni ha chiamato tutti a una responsabilità. Senta, il cuore del piano sono la Recovery and Resilience Facility e l'ActEU, diciamo il nocciolo duro, su questo che sono le cose che ci interessano le più. La distribuzione dei tagli, c'è vantaggio? Allora, ovviamente c'è un quadro di macro negoziato su quale ovviamente si tratta di rompere alcune resistenze e superare alcune perplessità che a questo punto sono inaccettabili. Poi c'è un negoziato micro, cioè che riguarda le singole poste e questa forse è una partita non meno importante sicuramente, soprattutto per il singolo paese e per l'Italia. Diciamo che mi sto battendo duramente, anche qui non mollo affatto, sul fatto che ovviamente alla fine quelle che saranno le risorse finanziarie a disposizione dell'Italia siano cospicue, non ci sia una compromissione del quadro totale delle risorse perché è questo che ci consentirà una pronta ripresa. Grazie a tutti. Grazie.